Agricoltura, gastronomia e musica. Quest'anno la festa della cipolla rossa di Acquaviva, giunta alla sedicesima edizione, è ancora più ricca e punta a superare i confini provinciali attirando visitatori da tutta la regione. Una vetrina allestita sabato 20 e domenica 21 luglio nel centro storico della città per valorizzare un prodotto gustoso e indispensabile per la cucina ma ancora troppo poco conosciuto. Ci saranno i produttori e i ristoratori per mostrare al pubblico i molteplici impieghi di un ortaggio buono da gustare e cotto ma anche crudo. Non solo degustazioni e passeggiate nell'evento voluto da Comune, Proloco, Assessorato regionale all'agricoltura, provincia di Bari e Galseb ma anche musica e teatro con il concerto dei Tiro Mancino sabato sera in piazza Garibaldi e uno spettacolo comico dell'anonima AGR domenica sera. Scattato il tantam su internet e sui social network attraverso i quali l'amministrazione di Acquaviva sta diffondendo anche degli spot sulla cipolla. C'è anche una mascotte disegnata da Tommaso Milella. Questo simpatico personaggio sarà battezzato con il nome scelto dai bambini delle elementari in occasione della festa del calzone di ottobre. Sarà una festa dove musica e gastronomia, musica, teatro e gastronomia si sposeranno. Stiamo progettando degli eventi, delle iniziative per internazionalizzare la cipolla. A margine della festa, eventi divulgativi per raccontare la storia di Acquaviva e della sua cipolla che ormai tra i presidi Slow Food è anche ottenuto il marchio di qualità di Puglia. Nel nome di questo riconoscimento l'assessorato all'agricoltura punta a promuovere dei menu a base di questi prodotti tipici certificati con un accordo con i più importanti ristoranti, non solo pugliesi. Il ristorante stesso costruirà poi un menu dedicato solo ai nostri prodotti e di conseguenza anche la cipolla di Acquaviva sarà presente in questi tavoli. Grazie.